Siamo vicini a Parigi. Napoli e Parigi sono state due grandi capitali nel passato. Un pensiero alle vittime di Parigi, solidarietà totale ai francesi, ai parigini. Un pensiero anche a quello che è accaduto ieri alla sanità. Basta violenza. Napoli vuole essere la città dell'amore, dell'accoglienza, dell'armonia, della pace. Vogliamo tendere la mano. Basta odio, basta armi. Sì, eccoci. Napoli si sta riscattando con la cultura e da lì possono venire migliaia di posti di lavoro. Quindi oggi vogliamo dedicare questo inizio del Natale all'armonia, alla pace e alla fratellanza. No all'odio e no all'indifferenza. Continuo a benedirli, vivono di questo lavoro tutto l'anno. Hanno bisogno per mantenere le loro famiglie. Ti ringraziamo per l'ingeniosità che hanno questi artigiani. È una cosa straordinaria che hai dato loro questa intelligenza, questa capacità creativa. Fa che continuino in questa tradizione. Fa che continuino in questa tradizione. Fa che continuino in questa tradizione. Grazie.